Tutte le inaugurazioni sono speciali, ma quella di questa stagione lo è senz'altro di più. Infatti, come sapete, inauguriamo con la Bohème nel 120esimo anniversario della sua prima assoluta, che il teatro, orgogliosamente e giustamente, si freggia di aver avuto, di aver dato i Natali a un'opera che è tra le più rappresentate al mondo, tra le prime tre, per l'esattezza. Lo facciamo con un nuovissimo allestimento, che è firmato da Alex Oye, regista, membro e cofondatore della compagnia della Fura del Baus, compagnia catalana famosa in tutto il mondo per le sue realizzazioni in ambito lirico e nel teatro di prosa, e con Gian Andrea Loseda, ovviamente, il nostro direttore musicale sul podio di orchestra e coro. Nuovissimo l'allestimento, non solo perché si appresta a debuttare, ma anche perché è nuovissimo nel concetto, almeno per noi, che siamo stati abituati negli ultimi anni a vedere la famosa Bohème del Centenario, di Patroni Griffi, o quella di Guglielminetti, che di poco l'ha preceduta, che abbiamo avuto occasione di vedere in teatro e che ha fatto il giro del mondo, e da ultimo a Savonlin, prima dell'estate. È nuovissima perché appunto il regista parte dalla considerazione che il fenomeno artistico e sociale della Bohème è una costante nel tempo, è nato, diciamo, dopo la rivoluzione francese, con la caduta dell'anziano regime, e in varie forme, ma con determinate costanti, si è protratto per tutto l'Ottocento, il Novecento e ancora oggi. Ed è appunto nella contemporaneità, nell'oggi, che la vicenda è collocata, con questo gruppo di artisti che abitano un quartiere massificato, sono quasi ingabbiati in una metropoli contemporanea. Prima di passare la parola ad Alberto Mattioli, che ovviamente ringrazio per essere venuto, e che anzi ricoprirà la sua veste di primo relatore, nonostante una lieve in disposizione, e benedirlo come si fa con i grandi cantanti. Non lo devo cantare. E quindi tanto più, ha fatto un giro molto articolato, è arrivato da Parigi, via Milano, insomma. Si ha sbagliato il volo in realtà. Sbagliato a pronotare il volo, vabbè, ma capita. Per cui, insomma, sarà senz'altro godibile, efficace, come sempre. L'occasione però, e mi rubo ancora due minuti, e questa è l'occasione anche per ricordare insieme a voi, visto che ci si rivede per la prima volta dall'estate, che il 20 luglio ci ha lasciato Giorgio Gualerzi. E molti di voi l'hanno conosciuto ben prima di me, per oltre 40 anni ha vissuto e seguito le vicende del Teatro Regio, della musica in tutta Italia. È stato un collaboratore di lunghissima, come dire, durata. Ho avuto l'onore di avere a che fare con lui per diversi tempi. Certamente è una figura non ripetibile. Per molte doti che aveva, di conoscenza, di memoria, è veramente invidiabile. E quindi mi sembrava giusto porgere questo ricordo. E niente. Guarda, mi hai tolto le parole di Borja perché prima io mi sono fatto un po' di appunti di preparazione. La prima parola è appunto Gualerzi perché io credo che tutti abbiamo approfittato della sua straordinaria memoria, della sua cultura, e anche, posso dirlo, di una elegante e spesso ironica riservatezza molto torinese, che era molto gradevole da ascoltare dall'altra parte della barricata. Non solo, ma un uomo come lui che è stata la memoria storica, era una delle memorie storiche dell'opera in Italia. Ha sentito il primo rigoletto nel 1943, al pomeriggio perché c'erano gli allarmi aerei e quindi non si potevano fare i spettacoli da sera. Però aveva una concezione molto giusta della tradizione che, a differenza di quello che si pensa, non è un concetto statico, è un concetto dinamico. Tradizione vuol dire prendere le cose da chi ci ha preceduto e consegnarle, non necessariamente uguali a chi ci seguirà. Come diceva credo Mahler, la tradizione è la custodia del fuoco e non l'adorazione delle ceneri. E questo concetto Gualerzi l'aveva molto chiaro, sono figure veramente preziose che ci lasciano, purtroppo è successo. Va bene. Allora Alberto, grazie. Prego. Ecco, naturalmente è come dire, posto che si è sempre contenti di tornare a Torino a fare queste chiacchierate, l'invito a parlare di Bohème è la classica polpetta avvelenata, nel senso che è un'opera talmente popolare che diventa molto difficile dire qualcosa che non sia scontato, banale o ripetitivo su Bohème. Bohème è l'opera glocal, come si usa a dire adesso. Cioè da un lato è un'opera globale, perché è una delle più rappresentate al mondo, dall'altra è la più torinese delle opere. Allora sul primo fronte io non ho dei dati statistici molto aggiornati, ma li ho riferiti a un quinquennio dalla stagione 2009-2010 alla stagione 2013-14, sono dati non precisi proprio al millimetro, ma molto attendibili. Bohème in quelle cinque stagioni è stata rappresentata 2.921 volte in 599 produzioni diverse nel mondo, che ne fanno la terza opera più rappresentata al mondo, dopo Traviata e Carmen. Se volete dei dati più recenti, sono andato a farmi una ricerchina per vedere invece a che punto siamo quest'anno con Bohème, cioè anno solare, primo gennaio 31 dicembre. Bene, quest'anno Bohème è stata rappresentata, viene rappresentata o sarà rappresentata nei seguenti posti. Allora in Argentina alla Plata, in Australia a Melbourne e a Sydney, in Austria a Vienna sia alla Statsoper che alla Volksoper, in Azerbaijan a Baku, va di nome dell'alfabetico perché li ho in nome dell'alfabetico, in Belgio a Liegi, in Brasile a Rio de Janeiro a San Paolo, in Bulgaria a Rose e a Varna, in Canada a Quebec, in Cile a Santiago del Cide, nella Costa Rica a San José, si dice così maestro, sì, in Croazia a Zagabria, in Danimarca a Copenhagen, in Estonia a Tallinn, in Finlandia a Savollina dal Teatro Regio, fra l'altro è a Vasa, in Germania, che voi sapete la Germania da sola produce circa un terzo di tutte le opere al mondo, di tutte le recite d'opera al mondo, in Germania quest'anno viene data a Berlino, sia alla Deutsche Oper che alla Statsoper, a Bonn, Bremerhaven, Coburgo, Detmold, Dresda, Francoforte, Freiberg, Hamburgo, Hannover, Heidelberg, Heidesham, Karlsruhe, Colonia, Lipsia, Lubecca, Magdeburgo, Magonza, Mannheim, Monaco, Nordhausen, Nuremberg, a Pforzheim, Stoccardi e Wiesbaden. Poi viene data a Tokyo in Giappone, a Dublino in Irlanda, in Italia a Cagliari, a Como, a Firenze, Genova, a Lecce, a Lucca, Messina, Napoli, a Novara, a Padova, a Pavia, a Piacenza, a Torino, a Torre del Lago naturalmente, a Trieste. In Kazakistan si dà ad Astana, in Lettonia a Riga, in Lituania a Vilnius, in Lussemburgo a Lussemburgo, in Messico a Mexico City, in Moldavia a Kishanu, in Nuova Zelanda in un posto che si chiama Napier, nei Paesi Bassi a Baastricht, in Polonia a Bigdostk, a Danzica, a Cracovia, a Breslavia, nel Regno Unito a Londra, nella Repubblica Ceca a Praga, sia al Tato Nazionale che all'Opera di Stato, in Romania si dà a Brasov, Bucharest, Klui, Iasu e Timisoara, in Russia a Ekaterinienburg dove hanno ammazzato lo zar, a Mosca in tre teatri, Bolshoi, Novaya Opera e lo Stanislavski, a Novosibirsk, a Rostov, a Pietroburgo in tre teatri, al Marinski, al Michalikovski e all'Opera da Camera, in Serbia a Belgrado a Novi Sad, in Slovacchia a Bratislava a Kosice, in Slovenia a Ljubljana, in Spagna a Barcellona a Doviedo, negli Stati Uniti ad Aspen, Columbus, alla Feste dei Glimmerglies, a Onolulu, io la vorrei vedere, una bohemia a Onolulu, a Houston, a Los Angeles, a New York, a Omar, a St. Louis, a Shreveport, a Syracuse, a Tacoma, a Waichita e a Wolf Trap, in Svezia a Stoccolma, in Svizzera a Ginevra, in Ucraina a Donetsk, Tcharkov e Kiev, in Ungheria a Budapest e in Uzbekistan a Tashkent. In totale fanno 631 rappresentazioni in 112 città di 41 paesi, il che vuol dire che per ogni giorno che passa di quest'anno c'è almeno una recita o più probabilmente due reciti di Bohème in un posto qualsiasi nel mondo. Ora, se voi pensate che il famoso telegramma di Carlo Dormevil dopo la prima, grande praticone teatrale, giornalista, traduttore in italiano del libretto del Don Carlo di Verdi, che sentenziò di Bohème, opera mancata, non farà giro, direi che è la profezia più smentita della storia dell'opera lirica. Ora, questa popolarità globale, planetaria, si accompagna il fatto che Bohème, come vi dicevo, è la più torinese delle opere, perché è nata qui, prima rappresentazione il primo febbraio 1896. Come sempre, quando c'è Puccini di mezzo, fu molto tormentata la scelta di Torino. Puccini era stranamente molto... nonostante a Torino tre anni prima avesse avuto il grande successo, la sua consacrazione come operista con la prima di Manon Lescaux, lui aveva molte probabilità sull'acustica del regio. Non so dirvi se giustificate, perché parliamo naturalmente del regio, quello storico, insomma. Poi dirigeva Arturo Toscanini, il giovane Toscanini, sul quale Puccini ebbe sempre delle opinioni molto variabili e molto contrastate, anche molto morali. Erano due persone che si rispettavano, ma non si amavano troppo. E poi c'era questa compagnia, volutamente scelta, senza divi, doveva essere una compagnia soprattutto affiatata, una compagnia giovane e affiatata. Però, insomma, quando poi Puccini arriva alle prove, dice testualmente in una lettera che il tenore, il baritono, cioè Rodolfo e Marcello, sono cani, cani con la K. Però l'opera debutta poi a Torino, grandissimo successo di pubblico, come avete visto, qualche perplessità della critica che conferma la vecchia regola di non capire mai un accidente. E poi l'opera è rimasta, diciamo, a Torino. Mi dicevano prima, e non lo sapevo, che in 120 anni il teatro Reggio ha fatto, fra qui e le sottornelle, 220 recite di Bohème. In particolare, dal 1996, quando si celebrò il centenario dell'opera, rispetto alla famosa produzione Freni Pavarotti, Bohème è tornata al Reggio nel 2004, nel 2006, nel 2008, nel 2010, portata anche in Giappone e in Corea, nel 12, nel 13 e nel 15. Quindi, come dire, è un po' difficile che vi si possa sorprendere raccontandovi qualcosa di nuovo su Bohème. Bisognerebbe, e qui mi rendo conto è molto difficile, però è una scommessa che invito tutti a fare, bisognerebbe recuperare una improbabile, difficile verginità d'ascolto, cioè provare a porsi per una volta davanti a Bohème come se la vedeste o l'ascoltaste come preferite per la prima volta. A me è capitata un'esperienza simile quest'estate, e che ve la devo raccontare perché è un po' lo spirito con il quale vi inviterei a assistere all'ennesima Bohème, benché sia una nuova produzione e benché la direzione di Gianandrano Seda riserverà molte sorprese. Quest'estate, come voi sapete, il Reggio ha portato il Bohème al Festival di Samollinna, in Finlandia, che è un storico festival musicale, esiste nel 1912, però ha avuto un periodo di interruzione, dove comunque non si era mai data Bohème. Aggiungo che i finlandesi sono un popolo di ottima cultura musicale, ma l'opera in generale e l'opera italiana non è proprio nella loro tradizione. Io a Samollinna, mentre Noseda dava questa lettura molto interessante, molto novecentesca, molto innovativa di Bohème, avevo seduto davanti a me tre ragazze finlandesi, due delle quali probabilmente erano Miss Finlandia e la Vice Miss Finlandia, che erano evidentemente, vedevano per la prima volta un'opera dirica, probabilmente, sicuramente vedevano per la prima volta Bohème. Ecco io, e la professoressa Franchi può confermare, perché è assolutamente di fianco a me, rimasi sbalordito da come queste si divertissero, ridendo a crepapelle, nei momenti di commedia. E questa cosa mi ha fatto capire una cosa banalissima, che è sotto gli occhi di tutti, ma la quale nessuno pensa, e cioè che Bohème, per almeno metà, la prima parte del primo atto, tutto il secondo atto, la prima parte del quarto atto è una commedia brillante, è una commedia brillante dove si ride, cosa che a chiunque di noi, cresciuto a panna e Bohème, questa cosa non soviene, perché noi pensiamo già a quando la povera Mimi agonizzerà, e invece è così. E allora, uno degli aspetti proprio di modernità di Bohème è il fatto che è costruita su una drammaturgia molto nuova e diversa da quella a cui siamo abituati nell'opera italiana. È costruita più che come un racconto conseguenziale, dove un avvenimento, ogni causa produce un effetto e così via, come una serie di quadri, infatti non a caso, non a caso, gli atti si chiamano quadri, che raccontano certo una storia, la storia di un amore, anzi di due amori, di Rodolfo per Mimi e di Marcello per Musetta, uno dei quali finisce tragicamente, ma lo fanno in una maniera molto frammentata, sono schizzi, impressioni, quadri, scene, più che un andamento conseguenziale. E qui è molto interessante perché bisogna andare a recuperarsi le fonti sulle quali lavorano il trio di autori di Bohème, cioè Puccini e i suoi librettisti Giacosa e Illica. Bohème, come è noto, la fonte è un signore che si chiamava Rimourget, francese, 1822-1861, così per collocarlo dal punto di vista temporale, il quale aveva fatto la Bohème, il quale apparteneva a quel sottobosco di scrittoruccoli, aspiranti artisti, negri, con il termine non ha alcuna condizione razziale, ma indica quelli che scrivevano i libri poi firmati da altri, no? Gran parte dei libri di Dumas non li ha scritti, Dumas li hanno scritti i suoi collaboratori, salvo poi uno fargli anche causa. Ma questo sottobosco Murgiel lo conosceva molto bene perché ne faceva parte e lo racconta, iniziò anzi a raccontarlo in una serie a Fouilleton, in seguito alla prossima puntata, che fu pubblicata su un giornale di scarsa importanza, che si chiamava Le Corsaire Satin, dal 1845 al 1848. L'anno seguente Murgiel ha quest'idea geniale di trarre da questo disorganico materiale uscito a puntate un testo teatrale, una pièce mele de chant, dice la locandina, in collaborazione con Tordor Barrère, che viene rappresentata nel 1849 e ottiene un successo clamoroso perché si era sparsa la voce che fosse un testo a chiave, cioè che dietro, cosa peraltro verissima, i nomi di fantasia di Murgiel si celassero dei personaggi veri. Tanto che alla prima assiste il Prince President, ricordo che nel 49 la Francia è una repubblica, quel brevissimo periodo della Seconda Repubblica, dal 48 al 52, il cui presidente è Luigi Napoleone Bonaparte, nipote del Bonaparte, quello vero, che poi nel 52 fa il copo di Stato e diventa Napoleone III. Ecco, quindi questa prima teatrale ha un enorme successo e da lì Murgiel rifonde il suo materiale, cioè sia il racconto a puntate originario, sia il testo teatrale e ne fa il testo definitivo che si chiama Le Saint de la Vie de Bohème, che esce nel 51, che nel 72 l'editore Sonzogno traduce in italiano ed è quello sul quale lavora Puccini con i suoi librettisti. Secondo i terribili fratelli Goncourt, che voi sapete tengono questo diario letterario dicendo Peste e corna di tutti in aprile dell'epoca, la bohème di Murgiel segnava l'irruzione del socialismo dalla letteratura, l'ingresso del socialismo nella letteratura, perché in effetti Murgiel ha degli intenti anche di denuncia sociale, come Zola, come la nascente narrativa dell'epoca, quella verista, come per esempio ha degli intenti evidentissimi di denuncia sociale, l'altra bohème, quella che Loncavallo scrive contemporaneamente a Puccini, voi sapete grandi polemiche fra i due anche sui giornali, e che debutta un anno dopo alla Fenice di Venezia con buon successo, ma venendo poi naturalmente buttata giù dai palcoscientici da quella di Puccini. Puccini invece è completamente strano a qualsiasi preoccupazione di denuncia sociale, ma sicuramente in questa derivazione da una troche de vie, da una storia vera, da una storia che Murgiel racconta quasi in prima persona, avendola vissuta, nasce quel particolare verismo fra duemila virgolette che si può applicare a bohème. Intanto cos'è la bohème? Attenzione, allora intanto io vi consiglierei di fare un investimento e di comprare uno dei costosissimi, ma molto ben fatti, programmi di Sala del Tato Regio, perché su quello che viene pubblicato in occasione di questa bohème c'è un bellissimo saggio di un signore che si chiama Anthony Glenor, di cui non so nulla se non che è un professore canadese, che però racconta molto bene cosa significa questa parola bohème. D'altronde due o tre anni fa a Parigi è stata fatta una mostra bellissima, allestita niente meno che dal più grande regista d'opera del mondo, cioè Robert Carson, dove appunto si ricostruiva la genesi di questa strana cosa che è la bohème. apparentemente assurda, perché diamine dei poetucoli affamati devono essere chiamati bohème, perché originariamente il termine indicava gli zingari, i bohemians in francese sono le gens du voyage, i nomadi, i zingari, i rom, che si pensava venissero dalla Bohemia, da qui il nome. Poi per traslato la parola finisce per indicare queste persone dalla professione incerta, dalla mobilità sia sociale che di residenza estremamente veloce e da lì nasce appunto la bohème. Di più, la bohème di Puccini è estremamente precisa, entra proprio talvolta nei dettagli su chi sono questi bohemian, cosa fanno, dove vivono, quando vivono. Intanto quando. Il libretto porta un'indicazione Parigi 1830. Detto per inciso, le bohème fra virgolette tradizionali, quelle come le voleva Puccini, sono una truffa, perché non vedrete nessuna bohème ambientata nel 1830. La famosa bohème di Zeffirelli, davanti alla quale tutti ci inchiniamo, anche perché ormai dopo cinquant'anni ci esce dagli occhi, è ambientata nella Parigi di fino a 800, non certo nel 1830, non certo in epoca romantica. Ma abbiamo degli indizi ulteriori. Nel primo atto, se ricordate, quando arriva Seanard con le monete guadagnate assassinando il proprio paparallo del milord inglese, le butta ai piedi degli altri bohemian increduli perché non hanno mai visto tanti soldi in vita loro, uno gli chiede sei pazzo, sei lippo, quest'uomo chi è? L'altro risponde Luigi Filippo, minchina il mio re. Ora, Luigi Filippo, re dei francesi, regna dal 1830 al 1848 e quindi già abbiamo una delimitazione temporale molto precisa. Di più, nel primo atto, il povero Benoit che viene a riscuotere l'affitto, viene sbeffeggiato perché è sorpreso al Balmabie in compagnia di una donnina, anzi di una donnona, perché gli piacciono le donne in carne, diciamo di moralità elastica. Ecco, il Balmabie fu aperto nel 1840. Era più o meno all'altezza dell'attuale avvenuto di Champs-Élysées e quindi, come vedete, l'arco temporale si restringe proprio con estrema precisione. Siamo dal 1840 al 1848. Chi sono? Anche qui, guardate, agli spettatori dell'epoca, dell'epoca di Mourget, non quella di Puccini, era abbastanza chiaro a chi si riferissero i personaggi di Mourget. Per esempio, noi sappiamo che Marcello, quello che è in Mourget è Marcello e in Puccini è Marcello e fa il pittore, anzi pittore da bottega, come gli urla Musetta al culme del loro ditigio, e in realtà, lo sappiamo molto bene, è in realtà uno scrittore di una certa importanza che si chiama Jules Champs-Fleury, quindi in realtà faceva lo scrittore. Di più, Chonard è un signore che si chiamava Alexandre Chon, che faceva il pittore e il musicista insieme con esiti deludenti in entrambi i casi, il quale però, raggiunta l'età della rispettabilità borghese, pubblicò un volume di Memorie intitolato, sapete, come Memoire de Chonard, Memorie di Chonard. Quindi sono personaggi che conosciamo e perfino Mimì, che è una creatura ideale, insomma lo dicono già cos'è illica nella loro profezione, è in realtà la fusione di due personaggi di Mourget, si chiamano una Mimì, appunto come quella dei Puccini, l'altra Francine, che però sappiamo erano ispirati dalla storia di una certa Lucille, morta all'ospedale della PTE a 24 anni di tubercolosi, esattamente come Mimì. Poi Parigi, anche la Parigi di Bohème è una Parigi, non dico assolutamente, ma molto precisa. Nel primo e quarto atto, voi sapete, non abbiamo riferimenti, cioè non sappiamo dove è collocata la soffitta dei Bohème. Possiamo solo immaginare che sia un posto un po' in alto, perché se no Rodolfo non potrebbe nei ceribigi vedere fumare i mille comigli di Parigi, quindi potrebbe essere Montmartre. Il secondo atto invece si svolge dal Café Mémus. Ora, il Café Mémus esisteva, se andate al Museo Carnavalet, che è il museo della città di Parigi, lì è conservata una incisione leggermente precedente all'epoca di Bohème, nel 1819, dove compare il Café Mémus, che era un locale non particolarmente elegante, del resto i Bohème non se ne sarebbero potuti permettere. L'unica differenza è che non era dove lo collocano Giacosellica, ma in un altro punto della città. Secondo Giacosellica, che sono molto precisi nell'Ordine d'Ascalie, ci dicono che è in uno slarg, in una piazza nella quale confluiscono queste strade e le indica. Allora, per Giacosellica è nel Carrefour de Bussy, che è vicino all'Odeon, sulla rive gauche. Invece noi sappiamo che il Café Mémus vero era dietro la chiesa di Saint-Germain L'Odeon, per intenderci il Louvre, la facciata corta del Louvre, non quella che dà sui giardini delle Tuilerie, ma quella che dà dall'altra parte, dove c'è appunto la chiesa di Saint-Germain L'Odeon, che era la parrocchia dei Re di Francia, nota perché è dal suo campanile che cominciò la strage di San Bartolomeo, fu dato il segnale per la strada di San Bartolomeo, la strada dietro, lì era il Café Mémus. Addirittura straordinario il terzato di Bohème. Se andate a Parigi, voi vedete tuttora la scena del terzato di Bohème. Perché? Perché la barriera d'Enfer era una barriera del Dazio, una porta del Dazio, che faceva parte di un complesso edificato sotto Luigi XVI, che appunto realizza la cinta daziaria di Parigi, lasciando 56 porte, aperture, dove si pagava il Dazio per portare le merci in città, come succede appunto all'inizio del terzato di Bohème. Di queste case, peraltro molto belle, in uno classico molto pulito, ne sono rimaste soltanto quattro, due sono in una piazza che oggi si chiama d'Enfer Rochereau. Pensate alla finezza dei francesi. Quella era la barriera d'Enfer. Dovendo ribattezzarla, scelsero un eroe della guerra del 1870, un certo colonnello d'Enfer Rochereau, che fu l'eroico difensore di Belfort, che è peraltro l'unica città francese che i tedeschi non abbiano conquistato durante quella guerra, la barriera d'Enfer, il colonnello, scritto tutto attaccato, invece la barriera è di apostrofo d'Enfer dell'inferno, piazza ribattezzata così. Se voi andate lì, in Place d'Enfer Rochereau, in fondo a Boulevard Raspail, dove adesso c'è al centro un enorme leone di pietra, che è il famoso leone di Belfort, dedicato appunto alla città che resistette, vedete da un lato un ufficio postale, dall'altro un altro edificio pubblico. Ecco, quelli sono i dazi della barriera d'Enfer, dove Mimì va a cercare Marcello per confidare che la sua relazione con Rodolfo è in crisi. Dobbiamo quindi concludere che Bohemio è un'opera verista? No. Perché? Intanto perché nulla è più sgradevole per Puccini di essere ficcato nel cosiddetto verismo. Dico cosiddetto perché il verismo è stata una categoria di cui si è usato e abusato per raggruppare in qualche modo tutta una serie di compositori italiani, di operisti italiani di film dell'Ottocento in maniera molto abusiva. Il verismo nasce dal travolgente successo di Cavalleria Rusticana di Mascani nel 1890, raddoppiato due anni dopo da un po' minore ma sempre enorme successo dei Pagliacci di Loncavallo, due opere che poi continuano a marciare in compagnia, ma in questa definizione verismo che comprende quelle opere che Rodolfo Celetti chiamava le opere da coltello, perché c'è sempre qualcuno che tira fuori il coltello e fa la strage in uno sfondo dell'Italia meridionale, in questa umanità un po' primitiva, delitto e fico d'India, in realtà è un coperchio che viene messo sopra una pentola dove bolle molto di più. Gli stessi compositori che siamo abituati a considerare veristi poi producono dei titoli che veristi non lo sono affatto, men che meno Puccini. Ma qual è la grandezza di Puccini? Che è, guardate, una prova, se ce ne fosse bisogno in più del suo genio. È un paradosso, ma io ne sono veramente convinto. Il problema è che Puccini non racconta musicalmente Parigi usando degli elementi musicali parigini. Nei Quattro Atti di Bohème voi non trovate delle citazioni folcloristiche o delle citazioni della musica francese dell'epoca. Come invece, lo ha dimostrato un bellissimo recente saggio di Emilio Sala, ci sono Usaverdi intraviata. Ma il genio di Puccini, il genio paradossale di Puccini, è che per tutti noi non è Bohème che racconta Parigi, ma Parigi che racconta la Bohème. Cioè è tale la forza di suggestione della musica pucciniana che oggi non riusciamo a pensare a Parigi se non attraverso le sue suggestioni, se non pensando alla musica di Bohème. Esattamente come oggi non riusciamo a pensare a Parigi se non immaginandocela in bianco e nero come una foto di Duano o attraverso una descrizione di Balzac o di Simenon. E questa è la grandezza dell'artista. Non è Bohème che assomiglia a Parigi, è Parigi che assomiglia alla Bohème. Puccini qui inventa il vero che, come diceva Manzoni, è il massimo obiettivo che può arrivare un artista. È la realtà che finisce per diventare uguale alla fiction e non il contrario. E infatti prendete un momento che purtroppo sfugge quasi sempre all'ascolto perché arriva dopo l'intervallo, ci stiamo tutti sedendo, c'è sempre la signora che commenta con la vicina, c'è quella che scartoccia la caramella, poi in Italia voi sapete l'opera non comincia finché non si mettono a cantare, cioè tutto quello che è preludio, introduzione è carne di porco. Ecco, l'inizio del terzo atto di Bohème, che è uno dei più straordinari brani di impressionismo musicale mai scritti, quello sì veramente francese, nel senso che c'è dentro, c'è Debussy, c'è Ravel, c'è tutta questa musica francese fond des siècles e che è una cosa assolutamente in spregio a tutte le regole del ben comporre, le famose quinte vuote che sono, come dire, che qualsiasi professore di conservatorio danno all'inferno perenne che lui invece usa. Ecco, la descrizione di quell'alba lì su Parigi è talmente incollata a quella città che non potremmo mai più vedere un'alba su Parigi senza pensare a quella musica. Bene, adesso facciamo una pausa e ci sentiamo il primo dei tre frammenti che vi ho preparato, ovviamente provocatoriamente non sono le solite Bohème, se no che senso ha farle, farvele vedere. Questa è in particolare una Bohème che viene dagli antipodi, intanto il momento è il finale del primo atto, il duetto finale Rodolfo e Mimi quando si innamorano eccetera. Siamo a Sydney nel 1993 e il regista è un signore che si chiama Buzz Lurman che poi è diventato famosissimo al cinema con un film che avrete visto quasi tutti che si chiama Moulin Rouge con Nicole Kidman, meravigliosa con la tuba, le piume che ondeggia sul trapezio. Ecco, la scena d'amore di Moulin Rouge con quella grande scritta al neon rosso con scritto l'amour che si illumina è esattamente quella che lui aveva usato dieci anni prima mettendo in scena Bohème, una scena estremamente bella, poetica, nuova, fresca, giovane, dove i due escono sul tetto di Parigi e si illumina questa grande scritta rossa, l'amour. Allora, loro sono diciamo volonterosi, non immaginatevi Pavarotti e Attebaldi, si chiamano Cheryl Baker e Julian Smith, il direttore David Hobson, ma questo non è importante perché qui veramente il regista accoglie alla perfezione non solo il momento scenico ma la dimensione poetica di questo momento. Ecco, naturalmente come tutti i capolavori riconosciuti, anche Bohème e in generale Puccini hanno un rischio, diciamo, che non è un rischio dovuto a Puccini ma a chi vi si accosta. C'è un nemico pubblico numero uno di Puccini che è il puccinismo, cioè la riduzione del teatro pucciniano, della grande musica e del grande teatro pucciniano a una dimensione puramente sentimentale e puramente, come dire, consolatoria. Questo avviene intanto nella parte musicale. Allora, naturalmente Bohème è, nel 1896, è un'opera d'urkomponiert, come dicono i colti, cioè un'opera dove non c'è più lo stacco fra il recitativo, l'aria, i momenti lirici, i cantabili e quelli dialogici. O meglio, c'è ancora, ma naturalmente non è più un'opera a forme chiuse. Manon Lescaux ancora, solo tre anni prima, aveva ancora, come dire, delle strutture musicali più tradizionali, ma ormai anche l'opera italiana aveva superato questa separazione. Però Puccini rimane fedele e, giustamente, in fin dei conti, alla antica tradizione dell'opera italiana che assegnava, come dire, al recitativo, che poi nel caso di Puccini non è un recitativo, ma è uno straordinario canto di conversazione, costruito su una mobilissima quantità di frammenti musicali che si sovrappongono, si legano, in fin dei conti, per i rami, alla grande elezione di Wagner, ma è alternato alle grandi espansioni liriche. Ora, il rischio, ed è un rischio che ha molto pesato sulla percezione vera della grandezza musicale di Puccini, è che, naturalmente, il pubblico si concentri sui grandi momenti cantabili, come dire, ridando all'opera quella frammentarietà che in realtà il caso limite, nel caso di Puccini, evidentemente Tosca è il secondo atto quando, nel ben mezzo dell'azione, tutto si blocca, neanche fossimo un'opera di Handel, e la prima donna ha la sua romanza, Vissi d'arte, che altrimenti non avrebbe neanche una romanza solista in tutta l'opera. Ecco, ha questo, come dire, difetto di visione che ogni tanto ci impedisce di penetrare davvero l'unitarietà della concezione di Bohème, quindi concentrandosi su le grandi romanze soliste, a scapito invece di una scrittura di estrema raffinatezza musicale, che trova il suo apice nel secondo atto, che sono venti minuti, di puro genio, tra l'altro con una tecnica, direi quasi cinematografica, perché lui, in tutto questo brulicare di personaggi, è il momento in cui ci sono in scena tutti, il coro, tutti i solisti, il coro dei bambini, e lui con questa tecnica, si direbbe cinematografica, che fa pensare sicuramente al cinema, riesce a isolare dei singoli dettagli, dei singoli momenti, come un regista cinematografico che improvvisamente ti stringe il campo e in mezzo a una folla ti fa spiccare un volto, un gesto, un atteggiamento. A questo si affianca la riduzione del teatro pucciniano a una specie di melenza e consolatoria retorica dei buoni sentimenti. Tutti abbiamo avuto una zia e una nonna che uscivano da Bohème dicendo è stato così bello, pianto tanto. Ora va benissimo piangere, ma lo scopo di Puccini non è o non è solo quello di farci piangere. C'è sicuramente nel teatro di Puccini una retorica consapevole, voluta, studiata, anche un po' ricatatoria, se vogliamo, sentimentalmente ricatatoria, verso il pubblico, delle piccole cose. Lo dice Ciocio Sanno, noi siamo gente avvezza alle piccole cose, umili e silenziose, qui siamo in pieno pascoli proprio. Il ricato sentimentale della cuffietta rosa è devastante, no? Quando nel finale lei arriva e ti ritira fuori la cuffietta rosa che Rodolfo l'aveva comprata nel secondo atto come pieno d'amore, è chiaro. Però è sbagliato ridurre tutto il teatro pucciniano, che è un teatro estremamente moderno e estremamente novecentesco anche nelle sue nevrosi, nelle sue ambiguità, a questa sorta di melassa. Io cito un libro che deve ancora uscire, ma insomma uscirà fra poco, del mio amico Elvio Giudici, incentrato principalmente sulla realizzazione scenica del teatro musicale, dove si spiega questo atteggiamento sbagliato nei confronti di Puccini in questo modo. Cioè Puccini è diventato epittome di tutto il bric-a-brac piccolo-borghese, col quale superficialità e ipocrisia tardo-ciocentesche hanno velato di buoni sentimenti l'impietosa realtà descrittaci dalle prose di Dickens, Mopasson o Zola, in un farisaico soppire, troncare, padre molto reverendo, rimasto sostanzialmente ferreo fino quasi ai giorni nostri. In realtà invece è intessuta di violenta sopravfazione e quindi generatrice di un'alienata angoscia. E questo è verissimo, è verissimo perché il teatro pucciniano non racconta storie consolatorie. Lui potrà essere anche il più grande killer di prime donne della storia del teatro musicale. Muoiono tutte, le donne di Puccini muoiono tutte, suicide, malate, ammazzate, torturate. Come Dickens ha fatto i soldi col bambino maltrattato, Puccini li ha fatto con la prima donna sofferente. Ma attenzione perché non è un teatro consolatorio, Butterfly è una storia di turismo sessuale. Tosca è una storia tremenda, dove c'è un sadico, violentatore, torturatore, criminale, come un figuro degno del peggior novecento. Scarpi è un personaggio che vedremo bene ad Auschwitz o in un gulag staliniano. E la stessa Bohème, guardate, che non ha nulla di consolatorio. Qui ci sta raccontando la storia di quattro tizi che non riescono a mangiare, di una ragazza di 24 anni che muore perché non ha i soldi neanche per un dottore. Non è una storia di buoni sentimenti, o meglio, è forse anche una storia di buoni sentimenti, ma ci racconta una realtà molto dura, molto violenta, molto crudele. E questa modernità angosciosa spesso e alienata del teatro puciniano, questa modernità del tutto novecentesca, che noi cerchiamo di occultare trasformando in una questione solo di ripicche fra innamorati e di rosa, mentre invece per fortuna è molto di più, questa nevrosi è uno dei pochi elementi che inseriscono veramente puccini nella sua epoca. Oggi nessuno può sostenere che puccini non sia uno dei grandi musicisti della sua epoca, di quel periodo straordinario fra fin l'ottocento e inizio novecento, ma nessuno può anche sostenere che non sia uno dei massimi drammaturghi di quest'epoca. Per nulla consolatorio, per nulla piccolo borghese, per nulla sentimentale. Ed altronde, ed altronde, è molto significativo che, in fin dei conti, puccini sia anche, e questo è evidentissimo in Bohème, il primo musicista a raccontare la metropoli. Se ci pensate, puccini è il primo operista che colloca le sue vicende, o almeno alcune delle sue vicende, nella metropoli moderna, nella città del novecento, perché la Parigi di Bohème è già una grande metropoli. Con tutto quello che ciò comporta in termini di alienazione, nevrosi, è il primo musicista delle grandi città, puccini. Come sarà poi, a suo modo, benché su sfondo esotico, in Butterfly, come sarà in Tabarro, come è puccini. Quindi, anche, come dire, anche l'oggetto, il focalizzarsi sulla poesia della piccola cosa, attenzione perché è un'arma a doppio taglio, non bisogna fermarsi lì, bisogna andare oltre e scoprire, dietro questa apparenza, pura apparenza mielosa, la dura realtà di un drammaturgo che ha raccontato il mondo com'è e non come vorremmo che fosse. Puccini, per apprezzare, amare Puccini bisogna togliersi quegli occhiali con le lenti rosa con il quale siamo abituati a guardarlo. No, non è così, non è solo la lacrima facile perché lei, poverina, muore. No, lei muore perché ci viene raccontata una storia tremenda di sofferenza, di emaginazione, di alienazione e questo bisogna farlo vedere. Proprio per farlo vedere scelgo un momento che invece è divertentissimo, così ci risolleviamo un po'. Secondo frammento video, molto curioso, qui richiede una piccola spiegazione. Questa è una delle più belle produzioni di Bohème che io personalmente abbia visto in video perché l'ho vista dal vivo nella mia vita, però va spiegata perché è stata allestita in un luogo del tutto particolare che è il Festival di Bregenz. Bregenz è l'arena di Verona degli Austriaci, solo che non disponendo dell'arena di Verona, di cui peraltro probabilmente farebbero un uso migliore di quello che facciamo noi, usano un'isola galleggiante sul lago di Costanza. Quindi il pubblico è nelle tribune sulla riva del lago. In mezzo al lago c'è quest'isola dove si svolge lo spettacolo, dove naturalmente le proporzioni sono gigantesche, perché se no non si vede niente. In questo caso Richard Jones, che è uno dei grandi protagonisti del teatro musicale di oggi, sceglie di ricoprire l'isola come se fosse un enorme tavolino da caffè, dei caffè di Parigi. Aspettate quei tavolini tondi dove non ci sta mai niente perché sono sempre piccolissimi. Lì ricopre l'interno dell'isola e tutta l'azione si svolge lì. Qui ascoltiamo il finale del secondo atto, quindi dal valsero di Musetta in avanti. E anche qui è assolutamente straordinario perché un brano che viene sempre derubricato a momento frivolo, guarda c'è Musetta, diventa invece un straordinario pezzo di teatro e diventa quello che è, un pezzo di cabaret, un pezzo di commedia musicale. Prego. Pezzo di teatro strepitoso, devo dire. Ultima questione di cui dobbiamo occuparci è una domanda che vi sarete spesso posti. Io almeno sì, spesso. Perché Bohemi ci commuove tanto? A fin dei conti sappiamo già come va a finire, no? Beh, diceva Gianandrego Vazzeni, che non era uno stupido, che nel finale di Bohemi non si piange di commozione estetica ma si piange perché Mimmi muore, che è già una buona domanda. Ma in realtà perché quest'opera continua a coinvolgerci emotivamente e non esteticamente, o meglio, esteticamente ma anche emotivamente tanto? Intanto c'è, se vogliamo, un aspetto su cui si è molto ricamato, forse perfino troppo, che è quello autobiografico. In fin dei conti anche Puccini fa la sua bohème. Come sapete Puccini rimane orfano molto presto del padre, padre musicista, è una famiglia di musicisti da generazioni. rimane orfano con una madre molto in gamba, un fratello più giovane e un'infinità di sorelle dai nomi impossibili. Va a studiare a Milano grazie al Corsfattore di Milano, grazie a una borsa di studio ottenuta con una supplica alla regina Margherita. E, insomma, la vita di Puccini a Milano non è facile, anche se è probabilmente un'invenzione, l'aneddoto mille volte raccontato, che quando lui divide lo stesso appartamento con Mascagni, che studia, anche se non finirà poi gli studi, come poi si vede, al Corsfattore di Milano, i due sono talmente miseri che hanno un bicchiere sole, quindi devono bere a turno. Questa cosa la raccontarono sia Puccini che Mascagni in innumerevoli interviste, ma probabilmente è inventata. Di certo però, come dire, Puccini fa la sua bohème. Io vi leggo solo un estratto di una lettera, di una lettera mandata a uno zio notaio di Lucca, quindi ricco, per chiedere soccorso, ed è il genere di lettera che avrebbe potuto mandare Rodolfo, appunto, allo zio milionario di cui aspetta la morte per ereditare. Allora, 6 dicembre 1882, vigilia di Sant'Ambrogio, lettera a Nicolao Cerù, lo zio notaio a Lucca, i miei studi vanno bene e lavoro assai. Questa, fra l'altro, ci sono molti motivi di dubitarne, perché invece Puccini non è che fosse assiduissimo. Il freddo qua su è straordinario ed è maggiore degli anni scorsi. Sono perciò a pregarla di un favore che spero troverà giusto. Debo studiare, come sai, io studio specialmente di sera tardi, fino a notte inoltrata, e avendo una camera fredda fredda mi abbisognerebbe un po' di fuoco. Io non ho denari, perché, come sa, quelli che lei mi manda sono per il puro necessario. Perciò avrei bisogno di qualche cosa per comprarmi una di quelle stufe economiche da braccia che fanno assai caldo. Questa è la stufa del promolato di Bohem. La spesa per la stufa non è grande, ma quel che mi dà a pensare è il carbone, che costa tanto e in capo al mese monta qualche soldo. Ho scritto queste cose anche alla mamma e così vedano se mi possono rimediare qualcosa fra tutti e due, perché il tempo stringe e si va più nel freddo. Gli anni passati ho fatto quasi senza fuoco, cioè il primo anno assolutamente senza perché fu inverno temperatissimo e il secondo c'avevo il caminetto e qualche volta l'accendevo. Però anche nel secondo anno non era quel freddo che ora che siamo al principio dell'inverno. Questa è una lettera con la quale spero di farsi mandare due soldi per comprarsi il carbone. Aggiungo, se volete, un aneddoto divertente che all'epoca Puccini abitava in Vicolo San Carlo 2, vicinissimo alla Scala, però, a differenza di quello che fa Marcello con Benoit nel promulgato di Bohem, non poteva non pagare l'affitto perché il padrone di casa lavorava alle poste e quando arrivava il Vaglia con i soldi della borsa di studio prelevava direttamente e quindi lui se ne ha la mente una lettera e dice ma io non posso neanche non pagare l'affitto. Ecco, fin qui siamo sicuramente, sicuramente perché no, è vero che in Bohem si sente un eco di questi anni di Bohem appunto a Milano ma c'è qualcosa di più. Vedete, la ragione secondo me, ma questa è un'opinione personale e non voglio vendervela come una verità assoluta, la ragione per la quale Bohem è un'opera che continua a toccarci così profondamente è che non è un'opera come spesso si dice sulla gioventù ma sulla nostalgia della gioventù cioè non è un giovane che racconta ma è la gioventù vista dal punto di vista di un uomo che ne è appena uscito esattamente come era nel caso di Mourget Mourget racconta la Bohem avendola fatta ma quando lui è già qualcuno Bohem arriva nella vita di Puccini in un punto è un punto da cui tutti penso siamo passati in cui Puccini ha smesso di essere un giovane quando Puccini scrive Bohem 1896 lui del 58 ha 38 anni ci comincia a lavorare quando ne ha 35 quando ne ha 35 ormai è chiaro che è già Puccini perché ha già avuto il successo di Manolo Lescaux perché è diventato il pupillo di Giulio Ricordi perché è ha cominciato a avere i primi successi all'estero perché è l'operista sul quale la Casa Ricordi è la più importante editore musicale italiano ha deciso di investire ha deciso di puntare ha deciso che lui sarà l'erede di Verdi e in questo momento come dire gli subentra questo sentimento dolce e amaro che è soddisfazione per essere riuscito Puccini può comprarsi il carbone adesso ma è anche come dire questo sentimento dolce e amaro di nostalgia per quando si stava peggio ma si era più giovani guardate Puccini è un uomo che per tutta la sua vita coltiva questa specie di filone giovanilistico direi quasi adolescenziale è un grande collezionista di tutti i giocattoli da adulti è appassionatissimo di automobili le prime automobili è un grande acquirente di automobili gli piacciono tanti motoscafi è tutto contento quando gli si fa costruire il motoscafo per il lago di Massacciucoli come lo vuole lui va a caccia frequenta questo circolo a torre del lago diciamolo vulgarmente di scorreggioni dove stanno lì a dire delle porcate a giocare a carte a bere a bere chianti ha questa componente anche quando è Puccini si ritrova lì a far casino con gli amici del lago eccetera e Bohème è l'opera di qualcuno che vede che la giovinezza gli è passata fra le mani c'è questo sentimento in quest'opera fortissimo che le dà questo carattere particolare forse unico sicuramente unico nel tratto Puccini ma sono pochissimi gli operisti che hanno colto questo momento momento in cui riguardi al tuo passato prossimo recente fino a quando ci sono pochi anni che Puccini non è più non è più lì a gelare nella sua soffitta a Milano ma riguarda indietro con questo sguardo e c'è un indizio musicale che ce lo dice chiarissimamente il tema dei Bohème quello che si ascolta all'inizio dell'opera e poi per tutti e quattro gli atti non è un tema originale Puccini ricicla e cosa ricicla ricicla un tema del suo capriccio sinfonico che era il brano scritto al conservatorio di Milano che lo aveva imposto all'attenzione diciamo della Milano musicale colta da lì poi la decisione di fargli scrivere un'opera le viglie e poi tutto quello che sappiamo ecco è un indizio che ci dà Puccini Puccini sceglie per identificare il tema dei suoi eroi giovani le note che lui aveva scritto quando era un giovane musicista che faceva il Bohème e sperava di fare carriera e qui si potrebbe aprire poi un aspetto una parentesi molto interessante perché vedete chi interpreta le opere ci dà anche degli stimoli per capirle ora una cosa molto interessante che fine fanno i Bohemian di Bohème non è che siano dei personaggi un po' irrisolti un po' falliti uno spettacolo molto bello anche se non dei suoi migliori che fu una produzione di Bohème al Festival di Salisburgo nel 2012 di Damiano Micheletto raccontava questi quattro ragazzoni come sostanzialmente poi dei falliti cioè quanti di questi quattro diventeranno davvero un grande poeta un grande pittore un grande musicista un grande filosofo è molto improbabile sembrano piuttosto e questo tema è squisitamente pucciniano sembrano piuttosto degli adolescenti attardati che non vogliono diventare grandi che vogliono prolungare il più possibile ed è un tema guardate questo assolutamente moderno nella nostra società dove capita di leggere sui giornali come ieri l'altro sul Corriere della Sera un giovane di 34 anni beh a 34 anni Mozart era morto e è un gruppo di adolescenti attardati che vivono in questa perpetua come dire scusatemi in questo perpetuo fancazzismo baloccandosi gingillandosi con vaghe aspirazioni artistiche che poi non quagliono mai e dove e dove e qui si dovrebbe tornare ma io non faccio lo psichiatra e detesto la riduzione dell'universo mondo alla psichiatria però è interessante notare che la cosa l'avvenimento che fa scoprire ai quattro bohemian che la vera vita è un'altra cosa che la vera vita non è questo perpetuo scherzare questo perpetuo divertirsi questo perpetuo prendere in gioco la sorte anche eroicamente perché questi muoiono di fame però ridono lo stesso è la morte è il sacrificio della donna è la morte di Mimì la morte di Mimì è il momento in cui questo gruppo di prolungati adolescenti di figli sul divano per citare Michele Serra scopre che esiste una vita vera e diventa grande bohem fra le altre cose è anche un bildus romano un romanzo di formazione che racconta come quattro dementi diventano improvvisamente uomini ma per diventare uomini occorre il sacrificio della donna e proprio per questo io vorrei concludere facendovi perché sì ho già sfondato l'ora malissimo dopo mi rimproverano vorrei concludere facendovi vedere il finale molto toccante molto poetico commovente di questa produzione mi rendo conto di essere stato forse un po' frammentario ma d'altronde non credo che abbiate bisogno di uno che vi racconta la trama di bohem che vi dice che Rodolfo a mammi mie e viceversa questo avendola visto 200 volte in 120 anni credo che il pubblico torinese lo sappia vi faccio vedere questo finale che è lacerante come sempre forse aveva veramente ragione Gianandre Grazzeni queste sono tutte chiacchiere ci commuoviamo perché mi muore e vi esorto una volta di più ma mi rendo conto che non è facile a provare ad andarvi a vedere bohem come se foste uno dei vostri bisnonni trisnonni del 1896 che va a scoprire questo oggetto misterioso ecco solo in questo modo magari usciremo dalle secche ripetitive della routine e della noia e scopriremo che probabilmente bohem ha ancora molte cose da dirci e da insegnarci bene buono sconto ci vediamo il 12 per chi viene il 12 alle repliche per chi va alle repliche buona bohem a tutti inevitabilmente mi chiedo ma sarà sarà bello come l'ultima volta che è venuto Alberto Mattioli ed è sempre un po' di più lo penso e lo dico sono così no dimentico a dire una cosa importante che la produzione si avvale del sostegno di Intesa San Paolo che è socio fondatore del teatro che da qualche anno sostiene le prime di stagione e le produzioni più importanti ma anche che l'associazione Amici del Regio ha finanziato questo allestimento le scene di questo allestimento con un progetto unico in Italia da parte di un'associazione di questo tipo e con la collaborazione di Alcantara che ha realizzato il sipario e alcuni elementi di scene e alcuni costumi quindi c'è stata anche una sinergia per poter mettere insieme questa bohème che è importante sulla carta e ci auguriamo che resti importante nei nostri ricordi quando l'avremo vista grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti